Eccoci tornati insieme, questa mattina vogliamo aprire un'importante pagina storica che coinvolge non solo il Molise, perché i miei ospiti vengono dal Molise, ma più in generale tutti quanti noi, perché voglio presentarvi subito Don Gabriele Tamiglia e Gabriella Paduano che ci parleranno di una figura importantissima, oserei dire una persona che con i suoi studi ha cambiato la nostra vita. Sto parlando di Pietro Ramaglia, dovremo vedere la copertina nel nostro ledual, eccolo qui il testo che andiamo a presentare in questa mattinata, 1802-1875, il medico molisano, fondatore della moderna scuola medica napoletana. Stamattina in questa intervista coniugheremo scienza e fede, perché potremmo sintetizzare in questa espressione la vita di questo grande personaggio. E allora partirei con Gabriella per chiederti, ecco, chi è stato Pietro Ramaglia e perché è importante parlarne oggi e soprattutto perché è importante, sono importanti i suoi studi? Pietro Ramaglia è stato in realtà un grande medico, un clinico, uno scienziato, ha fondato la medicina moderna, quella sulla quale ci curiamo noi oggi. E tutto questo è avvenuto a metà dell'Ottocento. Lui parti da origini umili, era figlio di un piccolo proprietario terriero che riesce a laurearsi al Collaggio Medico Cerusico di Napoli grazie a una borsa di studio. Diventa talmente bravo che già prima della laurea, due anni prima, sostituisce il grande Cotugno, il più grande anatomo patologo del Regno delle Due Sicilie, come medico straordinario. riesce a unire l'anatomia con la clinica in un manuale che ha sancito la distanza tra la medicina, come era prima di lui, che era una medicina umorale basata su stimolo e controstimolo, e lui con la sua pubblicazione Anatomia topografica del 1840 supera questa visione poco scientifica. lo riesce a fare grazie all'asexio. Cioè lui si applica per circa 15 anni solo all'anatomia patologica e attraverso la sezione dei corpi dei morti riesce a scoprire le malattie dei vivi. Quindi un manuale che non serviva tanto alla chirurgia, bensì al clinico, che adesso sapeva dove venissero i morbi degli ammalati. Diventa talmente bravo che il re Ferdinando II di Borbone lo vuole a tutti i costi per curare la propria corte. Quindi cambia lo statuto reale che era già stato oro di medici e il 29 settembre del 1851 diventa medico reale senza essere cortigiano, appunto perché veniva da una famiglia povera di Ripa Bottoni in provincia di Campobasso. E questa è sicuramente stata una novità assoluta. Lui non sembra che non fosse orgoglioso di esserne diventato membro della corte reale perché questo toglieva tempo ai veri ammalati che erano gli incurabili, ossia i più poveri di Napoli. Infatti l'ospedale degli incurabili poi potremmo dire diventa un po' il palcoscenico su cui questa moderna scuola medica napoletana in qualche maniera viene rappresentata perché è da lì che poi comunque cambia anche un po' la vicenda di Pietro Ramaglia che dicevo prima coinvolge anche un po' tutti quanti noi, giusto? Certo, coinvolge tutti noi perché appunto getta le basi di questa medicina, lui fonda la semiotica quindi il malato deve essere ispezionato con la percussione, l'ascoltazione, bisogna ascoltare la storia clinica del malato e quindi sono le basi della medicina attuale. E un ospedale veramente incredibile è stato quello degli incurabili che parla di Molise perché quando fu fondato nel 1521 la cofondatrice Maria D'Aierbo era la moglie del duca di Termoli Andrea De Capua e ancora tuttora nella cappella degli incurabili è seppellito il corpo di questo feudatario molisano. Un ospedale famosissimo non solo perché insomma era l'avanguardia all'epoca aveva addirittura 1600 posti letto, aveva un servizio di interpreti ma anche perché vi hanno lavorato tanti santi è noto come l'ospedale dei 33 santi tra i quali Sant'Alfonso degli Uori, Bartolo Longo e San Giuseppe Moscati. E allora Gabriella visto che ora abbiamo parlato di scienza Andreida, Don Gabriele per parlare di fede perché il nostro Pietro Ramaglia da questo punto di vista è molto importante, ha coniugato, potremmo dire è stato un antesignano di quella che poi Giovanni Paolo II nella Fides et Razio definirà le due ali della vita dell'uomo. Pietro Ramaglia ha una dimensione umana religiosa e spirituale molto importante. È la figura che maggiormente colpisce me come docente di teologia e di filosofia, quindi mentre Gabriele si è interessata nell'aspetto scientifico, io più di quell'aspetto umano e religioso. Intanto la formazione, richiamo sempre la centralità della famiglia nella formazione, è lì che i primi elementi non solo teorici ma di vita vissuta nella fede e la ricevuta dalla famiglia. Poi la frequenza al seminario Vescovile di Larino che è stato il primo in assoluto della storia dopo il concilio di Trento nel 1500 che ha decretato la formazione dei prete attraverso i seminari. Dopo Larino la scuola di di Domenico Trotta a Toro in provincia di Campobasso e quindi poi a Napoli. Napoli ha avuto un'altra grande fortuna per la sua formazione da parte di Bonzio Scotti che era padre spirituale della Corona ma padre spirituale anche dagli studenti di medicina. Avrà esagerato probabilmente per la formazione spirituale al punto da far sollevare un pochino gli studenti perché trattava come novizi dei gesuiti o dei seminaristi la mattina, la messa, il rosario, l'esame di coscienza. Però è stato un grande questo Scotti nel catechismo che ha scritto per la formazione cristiana dei medici quindi abbina i due aspetti quelli della scienza e quelli della fede. Leggendo alcune parti di questo catechismo io l'ho definito nella parte di mia competenza del libro come il primo bioeticista, colui che ha saputo coniugare la bioetica con i valori, con i valori della fede. Ora tornando a Pietro Ramaglia dicevo la formazione... Che assorbe Pietro Ramaglia, assorbe un po' tutta questa catechetica chiamiamola così, formazione religiosa che ha ricevuto. Certamente era assorbito e lo venerava come un padre, questo Monsignor Scotti. E quindi la dimensione umana di Pietro Ramaglia è molteplice. Innanzitutto la semplicità, l'umiltà, il rascondimento. Tutto quello che riusciva a dire, a scoprire, a proporre si metteva sempre dietro le quinte. Dice quello che ho fatto, quello che ho detto non è solo merito mio, è merito dei collaboratori, è merito dei colleghi. E insieme all'umiltà, perché è una virtù fondamentale l'umiltà, no? Humus vuol dire terra in latino, chi si sa abbassare automaticamente e poi sono gli altri ad innalzarlo. Insieme all'umiltà, la carità. Dicevo già Gabriella che negli ospedali degli ingurabili lui è stato un maestro della carità, oltre che un maestro della scienza. E poi la coniugazione di scienze e fede. Nella problematica per sempre della sezione dei cadaveri non era ancora ben definito il pensiero della Chiesa, anche se le università del Medioevo erano fondate ovviamente dalla Chiesa, questa università, già si diceva lecita la sezione dei cadaveri. E Pietro Ramaglia diceva, ma faccio niente di male io. Si potrebbe un po' con le pinze il principio macchiavellico del il fine giustifica i mezzi. Il fine qual era? Quello di scoprire sempre di più la possibilità di curare come si deve gli ammalati. E siccome non faccio niente di male, e siccome i corpi restano tali, e niente ha a che fare con la risurrezione dei corpi, perché alcuni dicevano ma poi, siccome diciamo nel credo i corpi risorgeranno, che succede di questi corpi sezionati? Ma era una visione distorta un po' della risurrezione. E quindi ha coniugato scienze e fede. L'amico giornalista ha fatto riferimento alla Fides et Ratio, è stato il mio cavallo di battaglia nella docenza universitaria per me. Io ho insegnato al Gemelli, agli studenti di medicina. Quindi la concordazione, non la contrapposizione, ma la convergenza delle verità di scienze con quelle di fede e con quelle di ragione. Diceva Giovanni Paolo II che le verità di fede possono costituire una pulce all'orecchio degli scienziati. Ci vediamo se fosse vero questo? E quindi si approfondisce la ricerca. Pietro Ramaglia, ottimo cristiano, ottimo scienziato, ha rispettato a massimo le verità della fede applicate così alla scienza. Gabriele prima diceva che l'ospedale degli incurabili è stato l'ospedale dei 33 santi, giusto? Ecco, ora bisognerebbe anche indagare se effettivamente Pietro Ramaglia ha esercitato in maniera eroica quelle virtù che poi potrebbero portarlo ad essere il 34esimo. Non lo so, Don Gabriele. Sì, io ho ipotizzato al termine un trafieletto nel libro. Potrebbe essere considerato il San Giuseppe Moscati del Mulise, però tocca l'autorità ecclesiastica dopo quello che lei ha detto, no? La ricerca sull'esercizio in maniera eroica delle virtù. Questo è il primo passo per essere dichiarato servo di Dio, poi venerabile. Poi se c'è il miracolo, beato. Sì, Gabriele. Le cronache effettivamente ricordano che quest'uomo era sempre sorridente, allegro, che nessuna persona fosse andato all'altro mondo senza una parola gentile di Pietro Ramaglia. Aveva un giorno in particolare in cui si dedicava ai più poveri di Napoli senza prendere il compenso e lui morì povero, nonostante fu praticamente medico di corte e prendeva 80 ducati in pianta ogni mese e sposò addirittura una baronessa, la baronessa Mariella Tambelli del Vasto. Ma quando morì fu anche seppellito nel cimitero delle 366 fosse, dove appunto erano seppelliti gli incurabili, i più poveri di Napoli. Quindi un uomo che è stato anche coerente, ha sempre guardato indietro da dove era venuto e di quello che si era occupato, non si è mai inorgoglito della sua attività reale e si è sempre occupato dei più bisognosi. Dunque, una figura importante che stamattina abbiamo voluto presentarvi. Cari amici, state vedendo, ecco a tutto schermo, grazie alla regia, la copertina di questo libro curato da Gabriella Paduano e Don Gabriele Tamiglia, Pietro Ramaglia, il medico molisano, fondatore della moderna scuola medica napoletana. Ecco, siamo sicuramente certi di aver stuzzicato anche un po' la vostra curiosità e magari anche googlando, come si suol dire, potrebbe essere importante ritrovare ulteriori risultati. Io ringrazio entrambi per essere stati con noi e restituisco la linea alla regia e ovviamente noi rimaniamo a vostra disposizione, eventualmente ci dovessero essere anche delle novità riguardo a questa bella figura. Grazie ancora. Grazie a voi e saluti ai telespettatori di Teleradio Patripio. Grazie, grazie Don Gabriele, grazie Gabriele, la linea alla regia. Grazie a tutti.